Bene, dopo questo momento di svago e creatività, torniamo però alla serietà, alla serietà necessaria per presentare il brano che tra poco ascolterete. Un brano, un brano serissimo, davvero molto serio, di musica alta, dicevo serio, Gran Filou di Franz Leclerc, racchiude ben 30 diverse marce e melodie tra le più celebri della storia della musica occidentale. I nostri pilastri, le colonne della nostra identità, serio eh, serio dicevo, le fondamenta di quello che siamo, le note che hanno scolpito le orecchie dei nostri antenati. Allora, le arie serissime dei barbiere di Siviglia, Guglielmo Tell di Rossini, oppure della Carmen di Bizet, la traviata di Verdi e poi l'immenso, l'immenso Beethoven, L'abissale Chopin e il marzialissimo Strauss. Un brano classico, armonico, ordinato, che richiede la massima concentrazione dei musicisti, che per mesi hanno duramente lavorato per essere all'altezza di cotanto splendore. Sono sicuro, sarà eseguito egregiamente dalla banda sotto la direzione del maestro Paolo Luigi Belotti, Belotti, Egregiamente, egregiamente diretto dal maestro Paolo Luigi Belotti, buon ascolto e buon divertimento. L'immenso, incommensurabile Paolo Luigi Belotti, il suonatissimo Paolo Luigi Belotti, guardiamo sulle mani! Bravo! 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 Grazie. 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 Uno, due, tre. Grazie. 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 Grazie.